A tutti è chiaro che una donna non può essere prete Il più oscuro è capire il perché Molti papi avevano moglie, figli e amanti Tre figlie e una moglie prima di essere letto Orge con giovinette ad Avignone Un bambino di dieci anni di cui abusava sessualmente Nelle mestruazioni si vede la prova più evidente dell'inferiorità femminile Ecco che il cardinale prende la parola Incredibile, incredibile, una donna Per la prima volta nella storia della chiesa una donna è stata eletta Papa Il cardinale Clara Escobar è stata eletta Papa Ci hanno chiamato pazzi quando abbiamo visto il Cristo Isteriche quando lui ci ha parlato Eppure noi avevamo l'amore Cos'è la vita di un uomo, financo di un Papa Rispetto alla storia, se non un granello in una clessidra Tutto trapassa e brucia in fretta come una palla di stoppa Grazie a tutti Grazie a tutti